Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questo episodio dal colore di Retrocomputing oggi parleremo di Apple Soft Basic e quindi in particolar modo di Apple Soft Tutorial e Apple Soft 2 Basic Programming dunque, andiamo con oggi abbiamo osservato il bellissimo manuale del Commodore 64 ricordando che nel fantastico manuale del C64 Mamma Commodore aveva condensato tutte le informazioni software ed hardware del biscottone c'erano i dati della macchina, il linguaggio basic spiegato per essere studiato inoltre c'erano sviscerati tutte le locazioni e le subroutine del Commodore 64 e tutti i segreti della macchina permettendo diciamo di ogni proprietario del Commodore 64 di diventare un power user tutte queste informazioni, un vero tesoro non erano presenti nei manuali Apple II di conseguenza si doveva dare una sbirciata all'Apple Soft Basic dato che il basic Commodore e delle altre macchine erano stati già tutti spiegati e abbiamo già tutti esplorati osservando i relativi manuali delle macchine a differenza del mondo Apple Apple Soft Tutorial era il manuale per così dire basico di Apple che spiegava Apple Soft Basic in realtà il basic era di Microsoft e l'aveva venduto ad Apple ma tant'è mentre il testo Apple Soft II Basic Programming era un libro di Apple proposto come guida avanzata alla programmazione basic ecco io questi due manuali a dire la verità non li ho mai visti né mai comprati né mai letti perché tantissimo, diciamo io, tantissimi anni fa ebbe a comprare un paio di libri della Jackson Edizioni che rimpiazzarono questi due costosissimi manuali Apple ok, toffiamoci a bomba in questo viaggio nel passato andando ad esplorare i due manuali Apple eccolo qui, The Apple Soft Tutorial il manuale di Apple Computer dunque, spendiamo due brevi parole su Apple Soft Basic Apple Soft Basic era un prodotto della Microsoft che fu venduto alla Apple perché l'Integer Basic che era il linguaggio basic sviluppato da Wozniak manipolava solo numeri interi e non era un granché come diciamo linguaggio basic per poter pilotare un computer di conseguenza serviva un vero basic e ci pensò la Microsoft a fornire il basic ad Apple ora, in origine su Apple II il basic veniva caricato o da cassetta o da disco quindi veniva caricato in RAM successivamente su Apple II Plus fu introdotto il ROM però, diciamo, poteva essere aggiunta per i modelli precedenti la Apple II Language Card quindi era da 16K una vecchissima, praticamente, interfaccia per Apple II successivamente il basic fu posto, appunto, in ROM e quindi da Apple II Euro Plus Apple IIe e Apple IIc il basic era praticamente nativo in ROM andiamo a vedere Apple Soft Tutorial che praticamente questo era il manuale basico per, diciamo, la istruzione si vede che è un computer familiare perché anche qui riprende un po' praticamente il manuale comodo del VIC-20 abbiamo un bambino, una mamma, un babbo, un computer, un televisore però, da una parte, c'è una signorina qui che dà l'impressione che sia una scuola o comunque qualche cosa che vada, praticamente, a programmarsi forse la fila un po' più grande di questi, dei piccoli geni della famiglia quindi andava a utilizzare il computer per, diciamo, della programmazione e quindi già un corso avanzato di scuola vediamo un po' che cosa c'è, praticamente, in questo manuale ok, the Apple Soft Tutorial ok, il primo capitolo Getting Started ossia, diciamo, come praticamente iniziare a prendere contatto un po' praticamente con il computer e con, poi successivamente le sue periferiche incominciare, diciamo, con Apple Soft i primi comandi poi la programmazione elementare e poi successivamente tanti grafici come produrre grafici le stringhe e i vettori capitolo 5 e poi basta quindi, di conseguenza, è veramente corto ok, vediamo un po' che cosa serve? questo era, diciamo, per serviva un disk 2 oppure come collegarlo quindi alla oppure un registratore questa è, come si vede la tastiera dell'Apple 2 che praticamente non c'era nemmeno ancora i tasti me la piana e me la vota ok, veniamo un po' questa è la tastiera e si davano praticamente le varie informazioni sull'utilizzo della tastiera i controlli con i caratteri speciali l'Apple 2 praticamente aveva solo peraltro i caratteri diciamo grandi quelli maiuscoli solamente da Apple 2 fu introdotta anche le minuscole l'utilizzo del disk drive già qui del sistema operativo classica directory del catalog del in DOS che erano le indicazioni dei programmi in Apple Soft B programmi in binario T erano diciamo gli archivi e quelli con la sigla in integer basic vediamo un po' ok come fermare il computer i colori diciamo per sistemare i colori altre cose incominciare con Apple Soft le prime istruzioni print ciao ok si utilizzava la funzione print diciamo per fare dei conti vediamo un po' il formato dei numeri che potevano essere poi dopo Apple Soft gestiva molti numeri anche in notazione scientifica quindi si doveva conoscere questa questa formula vediamo un po' altri tasti altri esempi utilizzare i colori dello schermo quale se uno ci aveva la televisione a colori oppure praticamente il il monitor a colori altrimenti si vedeva poco quello in monitor a fosfori per tracciare delle linee i controlli per i giochi altre funzionalità per il calcolo prendiamo un form l'utilizzo delle precedenze nel calcolo di un'equazione di un'espressione la precedenza ovviamente seguiva le regole matematiche strettamente matematiche va bene ok programmazione elementare ecco che cosa c'era c'era praticamente il comando new comando list comando run il comando load poi abbiamo il programmo goto il tasto esc il comando catalog che questo era già praticamente del sistema operativo save run che poteva sostituire praticamente il load e il run inverso flash e normal per quanto riguarda le caratteristiche dei testi e poi il comando tab e htab e vtab per diciamo il controllo dello spostamento del cursore vediamo un po' adesso è estremamente essenziale il basic dell'apple soft non c'erano i comandi repeat until non c'era il while non c'era il case però diciamo era pur essendo stringato e abbastanza corto e semplice era molto efficace per quanto fosse interpretato perché poi era possibile eventualmente accedere a un sacco di roba che c'era praticamente con procedure binarie poi comunque ottimizzando la programmazione con il go sub e altre cose era possibile ecco qui abbiamo come salvare i programmi sul dischetto quindi l'utilizzo del sistema operativo i cicli for next ok getting flash per quanto riguarda le caratteristiche del flash ok altri caratteri grafici un listatino va bene altri listati per fare esempi fare suoni che si faceva con i pick pick e poke perché non c'era il comando sound non c'è mai stato ok vediamo un po' che cos'è subroutine tracciare praticamente questa era la sume con la bassa risoluzione alta risoluzione alta risoluzione invece era molto più più grande poi nella versione con apple 2 con l'espansione 80 colonne si andava a 512 e qualche cosa non mi ricordo ma è più preciso perché si aveva una risoluzione molto molto alta stringhe e vettori concatenazione praticamente la manipolazione delle stringhe quindi restare il più carattere spostarlo introduzione agli array quindi vettori e matrici messaggi di errore conclusione appendici veniamo a dire appendici l'assunto dei vari comandi hgr2 eccolo qua per andare in alta risoluzione qui c'erano tutti i comandi del basic spiegati e commentati un po' come in tutti i manuali le parole chiave riservate del basic get go su cui praticamente tutti i comandi che c'erano praticamente nell'apple soft li trovate né più e nemmeno qua come editare vari caratti i comandi praticamente qui l'editing dell'apple 2 a volte era un po' diverso avrebbe a cambiare con apple 2 firmware appunto l'installazione di un firmware la language card la vecchissima language card invece stare a caricare l'apple soft da dischetto oppure da cassetta eccoci qua invece che utilizzare differenze diciamo dall'utilizzo da cassetta o rispetto al firmware averci già direttamente differenze stava nel fatto che quando buttava la macchina c'era già in rom e l'interprete era già disponibile mentre invece quando non c'era andava a caricare le locazioni di memoria tenete presente che apple 2 gestiva meno memoria di apple 2e apple 2 e apple 2 plus ne avevano fino l'apple 2 a 16k poi 32 poi fu l'apple 2 plus a 48 apple 2 a 64 rispondibile fino al 128 apple 2c direttamente 128kb quindi le locazioni di memorie questi valgono in parte le informazioni sono vecchie vabbè è quello che è manuale ok come si vede feci bene praticamente a non comprare questi manuali ma a comprare direttamente il libro della jackson apple 2 guida all'uso ok passiamo oltre eccolo qui apple soft 2 basic programming reference manual questo praticamente era un manuale avanzato di programmazione per apple 2 un manuale di apple andiamo a vedere cosa c'era lo vediamo a doppia pagina per far più ma sono 93 pagine ma viste così faremo molto prima ok andiamo innanzi ecco cosa conteneva getting started la parte relativa come diciamo iniziare con il manuale alcune definizioni il sistema e diciamo i comandi utili poi abbiamo il capitolo 4 editing e il format diciamo dei comandi vettori e string input ed output comandi input ed output comandi relativi al flusso del controllo poi abbiamo capitolo 8 grafica e controlli per i gioc alta risoluzione della grafica alcune funzioni matematiche e appendici allora c'è da dire che apple software è un linguaggio molto corto quindi è onestamente essenziale però diciamo era potente anche se era interpretato perché era possibile fare tante cose ok veniamo un po' questo linguaggio veniamo un po' veniamo un po' ci sono esempi il formato dei numeri gli esempi di diciamo come fare la grafica il formato di stampa le nome delle variabili con i variativi qui abbiamo la introduzione della if then quindi un classicissimo istruzione diciamo apple poi un ciclo for next erano veramente pochi i comandi apple soft array i gosub e il return per le subroutine grid data e il restore ecco questo è molto importante per quanto riguarda se si vogliono utilizzare dei parametri quindi il restore che era possibile rinizializzare tutti i dati nel data real integer string le variabili reali intere e diciamo le variabili string la stringa come ci erano composte qui danno diciamo alcuni controlli sui grafici c'era la bassa risoluzione e l'alta risoluzione bassa risoluzione potrebbe essere utilizzata per fare alcuni grafici statistici l'alta risoluzione essenzialmente per i giochi le definizioni vediamo un po' definizioni sintattiche e abbreviazioni questo all'interno del comando del manuale per poter intenderci cosa si intendeva venivano evidentemente spiegati i vari comandi con la relativa sintassi sistemi utili e comandi ok qui si incomincia con save e altre istruzioni and or va bene connettivi logici traccia poi abbiamo altre funzioni matematiche va bene altri esempi ok eccoci qua editing informati relativi ai comandi eccoci qui che abbiamo i vari comandi quindi c'è poco da praticamente dire list le varie funzioni matematiche come gestire il cursore vtab htab poi clear per ripolire tutta la roba praticamente in svuotare le varie variabili e poi cosa c'è una speed per quanto riguarda la velocità di stampa flash inverso e normal per far flashare o invertire i vari colori del testo un po' fatto era estremamente stringato però era efficiente e permetteva di fare tante belle cosine ok vediamo un po' qui abbiamo altri programmi è più o meno simile a questo manuale a dire la verità all'applesoft tutorial quindi come programmi avanzati io qui per ora non ne vedo arraie stringhe molto più avanzato obiettivamente era quello del Commodore 64 che gestiva gli sprite e venivano spiegati cosa erano gli sprite quindi una perla di informazioni grafiche di grafica avanzata che qui non credo che ci siano spiegati gli sprite vedremo vedremo comandi di input ed output quindi questi manuali sembravano chissà che cosa ma puoi a ben vedere ecco vediamo un po' vediamo un po' sì c'erano tante cose ma comunque il fatto che la macchina il basic era parecchio vetusto comandi relativi al controllo vabbè ghost qui if spin e quant'altro con la varia accesso qui e non spiegate come utilizzare i vari comandi che erano pochi ma per fare delle varie combinazioni quindi una serie di if in pila si otteneva lo stesso risultato del case con un if in cima e un praticamente si faceva e un goto in fondo si faceva praticamente il controllo del while in testa con la if in fondo e il riportare diciamo le condizioni del ciclo della macchina in cima si otteneva in ripittantil quindi praticamente ripittantil e while poi più di tiny case potevano essere emulati con l'utilizzo della if e una programmazione attenta praticamente nell'ordinamento dell'ottimizzazione del codice mettendo praticamente tutte le subroutine in testa all'inizio e il corpo grosso del programma in fondo perché gli interpreti del basic l'applesoft iniziava dalla linea 1-0 e andavano avanti e quindi se mettevate praticamente il testo del programma all'inizio con saltare alla riga di fondo lui praticamente ritornava a reinterpretare tutto invece mettendo diciamo all'inizio del listato tutte le varie subroutine e il grosso del programma che pilotava le subroutine in fondo quando praticamente il computer andava qui lui andava alla pagina tornava su e tornava prima a trovare le varie subroutine con i vari numeri di linea quando trovava il ritorno ritornava alla testa del programma che però era in fondo e quindi di conseguenza si risparmiavano millisecondi facendo girare i programmi applesoft in modo più veloci con una ottimizzazione del codice cose che ora sono tutte scompatti perché tanto c'è praticamente altri tipi di linguaggi simbolici che poi sono compilati io qui ho ragionato a voto intanto parliamo delle altre risoluzioni forse mi sono perso qui vediamo un po' io ragionavo qui niente i controlli per la grafica niente di particolare come si vede qui si spiegava la grafica utilizzando praticamente la grafica in bassa risoluzione facendo degli esempini e poi se andiamo alla grafica in alta risoluzione eccoci qua qui si incominciava a affrontare il programma alla forma degli oggetti ok vediamo se poi c'è anche la spiegazione degli sprite qui veniva spiegata tutte le varie locazioni della memoria come il computer gestiva la memoria era importante saperlo osservare gli shape quindi i vari formati di una tavola in modo da farli manipolare a loro alcune funzioni matematiche che erano disponibili in Apple Soft Basic vari funzioni derivate va bene appendici che cosa c'è qui in appendici c'è il varie firme di Apple Soft le differenze se utilizzarlo per su cassetta oppure da disco l'editing del praticamente dell'editor dell'Apple Soft per quanto riguarda inserire diciamo i vari comandi i messaggi di errore che venivano spiegati con i vari intervalli spazio RAM e i vari ampi dei vari numeri termini reali ok qui venivano come utilizzare diciamo gli archivi dati appendici in esa decimale con le varie parole riservate e vediamo un po' come convertire i programmi basic in Apple Soft venivano spiegate eventualmente se le altre piattaforme non si faceva dei porting se uno voleva farli la mappa della memoria di nuovo qui in locazione eccoli qua con il diagramma di Apple Soft dove stava in memoria e cosa occupava appendici pick pop cal questi erano importantissimi per Apple Soft perché diciamo tutto quello che mancava ovviamente per quanto riguarda il fare il sonoro qui bisognava appoggiarsi a pick pop cal e a delle procedure binarie che facessero il sonoro perché non c'era nulla e però preoccupava il microprocessore 6502 perché Apple 2 non ha mai avuto un processore sonoro meno che uno non ci metteva una scheda sonora ma è un altro paio di maniche Apple Soft ok variabili di nuovo locazioni mappe appendici caratteri codici asci Apple Soft ok vediamo un po' comandi differenze essenzialmente essenziale questo manuale completo però essenziale abbiamo visto dei basic più 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 profondi di Apple Soft con molte più istruzioni più opportunità ovviamente Apple Soft è datato era datato verso la fine del 78 primi anni 80 gli altri basic invece sono nati successivamente quindi avevano anche molti comandi in più poi dopo dagli interpreti furono passati ai compilatori quindi tutt'altra cosa di genere l'interprete veniva continuamente reinterpretato tutte le volte che il computer passava da una determinata riga anche se l'aveva già decodificato lo ridecodificava linea per linea invece un compilatore una volta compilato quello era che andava molto più veloce a differenza di un assemblatore che era come un compilatore ma decodificava riga per riga ok qui è finito non c'è altro come si vede non era poi molto diverso a dire è vero questo Apple 2 Apple soft 2 basic programming reference manual dall'Apple soft tutorial questo era dato come un manuale diciamo avanzato però forse era avanzato per quanto riguarda Apple 2 poi per quanto riguarda quando venne fu introdotta con Apple 2 plus la memory language card quindi fu ovviamente introdotta Apple soft in rom quindi non fu non fu più venduta la Apple 2 memory card che era solo per Apple 2 Apple 2 plus Apple 2 Apple 2 c questo c'era tutto in rom e quindi era già immediatamente disponibile appena si accendeva la macchina e quindi di conseguenza c'era anche poco da discutere tutte queste parti relative anche al registratore venivano a perdere di sense quindi forse questi sono manuali più per Apple 2 che per Apple 2 plus e Apple 2 per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima